Si tinge nuovamente di giallo la situazione della palestra Nicola Damo de Adipalda. Dopo la chiusura al pubblico della scorsa stagione per la mancanza dell'agibilità degli spalti, ancora non è arrivata l'autorizzazione per svolgere le gare, anche se con un numero limitato di spettatori, da parte dell'amministrazione comunale. Ma ricostruiamo la vicenda. Tutto era scoppiato in seguito a dei tafferui avvenuti al termine del match, valevole per il campionato di serie di maschile, tra la Tripalda Volley e la New Volley San Marzano dello scorso 17 aprile. Al seguito dei controlli effettuati dai carabinieri giunti sul posto per sedare gli animi, era stata scoperta l'assenza dell'agibilità, che per gli anni precedenti era stata concessa provvisoriamente dalla Commissione Pubblici Spettacoli. Le nuove normative però non consentono più questo tipo di autorizzazioni. Al termine del caos generatosi successivamente all'imposizione delle porte chiuse alle società che fino a quel momento fruivano della palestra, vale a dire a Tripalda Volley e Green Volley, il sindaco Paolo Spagnuolo, proprio ai nostri microfoni, aveva promesso questo. Noi stiamo attivando tutte le attività necessarie per poter avere la certificazione definitiva e quindi poi far giocare nuovamente la Tripalda Volley e le altre società anche con la presenza del pubblico, sempre in numero molto limitato perché in realtà è una palestra comunque senza spalti, quindi con numeri piccoli. Però, ripeto, stiamo facendo tutto quello che è necessario, ci risentiremo anche con le società. Per quanto riguarda la presenza di pubblico probabilmente se ne riparlerà all'inizio della nuova stagione. Però per le loro attività sportive le palestre sono disponibili. I lavori di sistemazione sono stati effettuati regolarmente dalla Green Volley in ottemperanza, quelle che sono le normative vigenti. L'agibilità per un numero limitato di spettatori però non è stata ancora rilasciata. Mentre la Tripalda Volley da questa stagione, visto il caos creatosi nella precedente, ha deciso di spostare le proprie attività alla palestra comunale di Avellino, anche perché quest'anno verrà disputato il campionato nazionale di Serie B, per la Green Volley il prossimo 14 ottobre è previsto l'esordio casalingo. È opportuno quindi che gli uffici comunali si diano una mossa.